Buongiorno, buon uomo, siamo della Rai. Anche lei è qua? Sì, siamo della Rai, volevamo sapere... ma che è successo? Eh, penso che ci vediamo alla partita della nazione, perché diamo... Va bene, sembrava una buona idea. Io sono quello della Rai, comunque stiamo cerchando un attimo una televisione, però... ...e che ha lì in sé. La casa si muove. Grazie. Qualcosa si muove, sì, qualcosa si muove. Grazie.